Mamma! Ma ti posso abbracciare? Ma c'è il frizz? No, non c'è. No, posso abbracciare? Amore mio, amore mio, la cosa più importante è che tu stai riuscendo a fare quello che non sei riuscita a fare fino adesso. È vero. Tu parli col papà, parli del papà, in un mondo che non avevi mai fatto prima, amore, che non avevi mai fatto con nessuno. Non resistere, va bene così. Ma se li hanno truccata! Li hanno truccata! Grazie! 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 Grazie!